Musica Si è ripetuta anche quest'anno la tradizionale celebrazione nel giorno dell'8 dicembre dell'Immacolata, della giornata dedicata ai malati oncologici da parte del Calcit. Si è cominciato con una Santa Messa ufficiata all'interno della Cattedrale di Andria dal Vescovo Monsignor Luigi Manzi per poi arrivare al tradizionale rito esterno davanti alla stele della Madonna che è in Piazza Duomo nella città di Andria qui dal 1956, ovviamente grazie anche all'ausilio dei vigili del fuoco del Comando Provinciale della Bata è stato possibile portare dei fiori lì a circa 20 metri d'altezza oltre che liberare le colombe e i palloncini. Insomma una giornata importante, una giornata che ha molteplici significati, proviamo a raccontarli assieme. Oggi è una giornata importante, una delle giornate fondamentali della vita del Calcit che ci prepara tra l'altro al quarantesimo anniversario che cade l'anno prossimo anno in cui tra l'altro rinnoviamo le cariche sociali a partire da gennaio per mettere in atto tutta una serie di progettualità che si accrescono, si arricchiscono che sono sempre più articolate e sempre più vicine al malato oncologico. Ecco ovviamente il Calcit si occupa di malati oncologici dal 1984 un'attività che non si è mai interrotta, una delle più antiche associazioni di questo territorio un'associazione che assiste malati oncologici ma di fatto soprattutto negli ultimi anni ha ipotizzato un progetto molto più ampio di assistenza ai malati oncologici non solo di tipo economico ma anche soprattutto di tipo pratico. Infatti la nostra filosofia è passata dall'assistenza economica ad un'articolazione molto più ampia che prevede l'assistenza sanitaria da un lato ma anche la promozione di atteggiamenti corretti che costituiscono le basi per una prevenzione in funzione dell'insorgenza delle malattie oncologiche. In un anno in cui in realtà poi ci si proietta verso il quarantesimo anniversario di un'associazione che appunto lavora sul territorio da 40 anni. Sì è un lavoro, una presenza che è cresciuta col tempo 40 anni chiaramente sono un impegno, una tappa anche in modo di verifica è un modo di impegno per poter continuare a lavorare più alacremente per cui ecco affidiamo anche alla Vergine e soprattutto alla buona volontà di tutti l'impegno di sostenere, è Andrea che deve sostenere il Calcit per cui ecco è una scelta cittadina appunto di avere questa realtà molto preziosa. Una giornata che di fatto avvia anche il pieno delle attività natalizie rispetto alle quali mi sento di ricordare a me stessa e a tutti che questo tempo non è esteriorità, non è festa, non è frenesia o meglio non è soltanto questo, c'è molto altro dietro questo tempo è un tempo di preparazione, è un tempo di predisposizione anche ad un cambio che ciascuno di noi nella propria vita dovrebbe poter operare e mi piace che questa cosa si sottolinei proprio ai piedi di Maria nella città che è a lei dedicata.